Siamo a Salerno in compagnia di Vincenzo Lita che è il direttore di Società Libera. Oggi Società Libera ha presentato qui a Salerno il convegno Stato e criminalità. Vincenzo tu sei un abitué dalla nostra web tv, conduci una trasmissione che è tutta tua, è arrivato questo appuntamento importante, com'è andata? Direi che è andata bene al di là del folto pubblico come si direbbe in termini giornalistici, ma è andata bene per il livello della discussione e degli interventi. I relatori erano di primissimo livello, ma al di là anche di questo, del livello dei relatori, io sono molto soddisfatto perché nel convegno Società Libera è riuscito in qualche modo a portare avanti la sua linea. Cioè che non si viene fuori dalla lotta al crimine organizzata in questo paese se continuiamo a fare appelli allo Stato, alle forze dell'ordine e via dicendo. Quello che è emerso nel convegno è che è necessario una strategia integrata di lotta alla mafia, tu cosa ne pensi di questo concetto che mi sembra anche un po' un elemento di novità? Sicuramente ne penso bene, la strategia integrata significa che la lotta al crimine la conduciamo attraverso la repressione sicuramente, ma se non attiviamo altre due leve che sono quelle culturali, se l'informazione non si mette con il buzzo buono a fare il suo mestiere, uscire dal gossip, come lo chiamo io, della cronaca nera e via dicendo. Se l'imprenditoria non si assume alcune responsabilità, cioè che non riesca a fare sistema, sistema paese, sistema impresa e quindi dal privato devono venire posti di lavoro e via dicendo. In nome della lotta al crimine organizzato non vinceremo. Poi ci sono altre due leve che sono emerse, quella della cultura, all'interno di questa la cultura della legalità, chiaramente l'informazione. Questo effettivamente è un elemento di novità perché una strategia integrata significa aprire anche un tavolo dove si incide su queste leve. Perché oggi non ti sembra che ognuno va per conto proprio o per non dire altro? Oggi ognuno ha perfettamente ragione, va per conto proprio. Io ho detto anche per quanto mi riguarda che la lotta al crimine organizzato non la si può fare per compartimenti stagni e che ritrovo anche un certo isolamento sociale. Poi il procuratore della Repubblica di Salerno ha condiviso questa mia osservazione. Ritrovo anche un certo isolamento sociale da parte della magistratura stessa, come se fosse un potere a sé stante rispetto agli altri poteri dello Stato da cui noi abbiamo dato delega per la lotta al crimine e sbrigatevala voi e tutto il resto segue a ruota. Ti faccio un'ultima domanda che è una domanda molto interessante. Abbiamo scoperto che Vincenzo Lite è antiproibizionista. Io sono sempre antiproibizionista, ma ha maggior ragione se poi in qualche modo non noi ragioniamo a proposito della lotta al crimine. Se noi non diamo un colpo formidabile agli introiti del crimine organizzato, che di cui buona parte ne vengono fuori proprio dal narcotraffico e via dicendo, noi continueremo a non depotenziare le stesse capacità economiche e quindi di conquista e quindi di spesa del crimine organizzato e quindi non riusciremo a portare avanti la strategia complessiva, nel cui complessivo intendo anche la lotta al narcotraffico che significa possibilmente estinguerlo. Bene, ringraziamo Vincenzo Lita, direttore di Società Libera. Vincenzo, alla prossima occasione che avverrà prestissimo perché sei di casa su Libri.tv. Grazie a voi, grazie.